Abbiamo ancora tutti sulla pelle le emozioni che ci ha regalato la vittoria del Bari contro il Venezia. Il gol di Bellomo, il trenino sotto la curva nord. Meraviglioso, meraviglioso anche perché questa vittoria, voglio essere anche suggestivo, ricorda quella dello scorso anno contro il Francaville, il gol di Citro che poi diede il via alla volata verso la gloria. E' chiaro che qui è più difficile perché mancano 11 giornate, perché la concorrenza è molto più agguerrita, però mi piace pensare che ci possa essere qualche affinità tra il gol di Nicola Bellomo e quello di Nicola Citro. Ieri il Bari ha vinto una partita per me fondamentale, importantissima. A mio avviso dobbiamo adesso allontanare l'idea che il Bari possa vincere 4-0, 5-0. Adesso le partite si vincono così, 1-0 di cortomuso, come direbbe Allegri, con molta attenzione, con grande equilibrio e con grande solidità mentale. Quello che ha fatto il Bari e che dovrà fare nelle ultime 11 giornate, perché ci aspettano 11 finali, a cominciare da quella di domenica prossima sul campo dell'Ascoli, che non dimentichiamolo, ci rifilò la prima sconfitta stagionale.